Io sono Andrea Cinuzzi e sono il responsabile dell'azienda. L'azienda è di proprietà della nostra famiglia dal 1400, quindi non è sempre stata della nostra famiglia, così come certificato dalla Camera di Converso di Firenze e così come dichiarato e documentato anche nell'etichetta dove c'è la data dell'azienda, del primo vino che abbiamo fatto in azienda, 1570. Il vino, come dicevo, è una passione che abbiamo di famiglia e è un dovere, per tradizione noi facciamo il vino, un vino di ottima qualità, non è un vino commerciale, noi puntiamo alla qualità. Un buon vino è un vino genuino, naturale, che deve rappresentare l'anno, quindi i nostri vini non hanno blend, non sono vini che vengono così come sono prodotti. La caratteristica di questi vini è proprio quella di essere un vino genuino e quindi risentire dell'anno, interessante notare come si evolve nella stagione e la maturazione dell'uva e quindi sono vini più sapidi, meno corposi, ovvero più corposi, dipende dall'annata.